Altre informazioni nella descrizione del video. Tre, san, san, quattro, si, si, cinque, wù, sei, liu, liu, sette, ci, ci, otto, pa, pa, nove, jiou, jiou, dieci, shi, shi, undici, shi, shi, dodici, shi-er, shi-er, tredici, shi-san, shi-san, quattordici, shi-si, shi-si, quindici, shi-wù, shi-wù, sedici, shi-liu, shi-liu, diciassette, shi-ci, shi-ci, diciotto, shi-ba, shi-ba, diciannove, shi-jiu, 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 diciannove, shi-giu, shi-giu, shi-jiu, 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 trentasette sanzisci sanzisci trentotto sanzisba sanzisba trentanove sanziscio sanziscio quaranta sisi sisi quarantuno sisi yi sisi yi quarantadue sisi er sisi er quaranta-tree sisi san sisi san sisi Quattro 44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 49 49 49 49 50 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 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 250 50 50 50 50 41 52 50 Grazie a tutti.